Ciao Andrea, è tardo pomeriggio, ma in generale è sempre un buon momento per brindare. Ho portato una bella bottiglia di vino. Grazie. La tecnologia, in questo caso l'app On, ci possono aiutare a riconoscere il vino e schedarlo meglio e a tenerlo nella cantinetta nel modo opportuno. Sì, noi siamo partiti dall'analisi dei bisogni della comunità degli amanti del vino e abbiamo sviluppato un'applicazione intuitiva che permette di tenere traccia in qualsiasi momento della propria collezione, di condividerla con gli amici e di registrare i momenti in cui si beve il vino. Quindi rende smart e permette di personalizzare anche un elemento come la cantinetta che di per sé è un po' freddo. Fredda perché deve tenere in fresco, ma è un momento caldo, è un momento personale, quello del godimento della propria passione per il vino e quindi noi abbiamo disegnato un'esperienza digitale che ti accompagna e ti permette di tenere traccia di tutto quello che è rilevante per questa esperienza. Quindi come si suol dire vino da meditazione, ma è un momento di meditazione, è un momento intimo che passa anche attraverso la tecnologia. Vero e tra l'altro è un'operazione veramente semplice, se vuoi ti faccio vedere. Sì, perfetto, fammi vedere. Basta un tocco, inquadro la mia etichetta della bottiglia. Grazie all'integrazione con Vivino lui la riconosce e mi permette di salvarla nella mia cantinetta. Adesso ho tutte le informazioni del mio vino, comprese le raccomandazioni di che cosa accompagnarci in termini di cibo. Quindi bollicine e sushi. Assolutamente, sushi. Perfetto.